Il ribale Un negozio di animali Wow! Guardate questi jackie dal buffo aspetto, amici miei! Scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui Le dispiace farci passare il popotama Beh, non credo che voglia farci passare Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato Sei aggrappata a un arbusto e non morirà di fame Perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno